Albano Carrisi, il rinomato cantante italiano, ha recentemente raccontato apertamente della sua relazione con Loredana Lecciso, svelando i dettagli della loro storia d'amore duratura. Loredana Lecciso è stata la sua amata compagna per un lungo periodo, e insieme condividono la gioia della genitorialità con due figli. Albano ha sinceramente espresso che sono estremamente felici insieme, e il loro affetto l'uno per l'altra non si è mai affievolito nel corso degli anni. È evidente che il legame che condividono è davvero speciale e continua a crescere sempre più forte col tempo. Il ricordo del loro primo incontro aggiunge un tocco romantico alla loro narrazione. Albano ha descritto vividamente il momento in cui il destino li ha fatti incrociare fuori da una scuola a Lecce. Lui accompagnava le sue figlie, mentre Loredana era lì con il suo primogenito. Le stelle si sono allineate e i loro percorsi si sono incrociati, segnando l'inizio di un viaggio straordinario. Da quel giorno fortunato, sono stati sempre vicini l'uno all'altro per impressionanti 23 anni. Il loro amore duraturo e il loro impegno reciproco sono un'ispirazione per molti, dimostrando che il vero amore non conosce limiti e resiste alla prova del tempo. Nonostante la pressione dell'attenzione pubblica e le sfide che accompagnano la fama, Albano e Loredana sono riusciti a coltivare una solida e duratura connessione. La loro relazione ha resistito a diverse tempeste, dimostrando la profondità del loro amore e comprensione reciproca. In quest'epoca di separazioni tra celebrità e fugaci storie d'amore, la loro storia di amore inossidabile si erge come un faro di speranza, ricordandoci che il vero amore può resistere alle prove della vita. La confessione sincera di Albano e Loredana ci ricorda la bellezza del vero amore, che continua a prosperare e fiorire anche dopo tutti questi anni.